La mia idea è farvi vedere alcuni dati e offrire alcune riflessioni riferendomi a una domanda specifica che è quella che pongo in questa diapositiva, cioè se l'andamento del mercato azionario è determinato dai sentimenti o dai fondamentali economici. Per riassumere la mia risposta, ve la do nella prima slide, dipende dall'orizzonte. Per orizzonti brevi i fondamentali sono irrilevanti, mentre lo sono decisamente, sottolineo decisamente, per orizzonti lunghi. E partiamo dalla frequenza mensile. Quindi qui vi illustro rendimenti totali, mensili, quindi per totali intendo che il mese in cui è pagato il dividendo, il dividendo viene incluso, aggiustati per l'inflazione, quindi in termini reali, dal 1960 ad oggi e quello che si vede è un grafico che varia tra il più 15 e il meno 20%, dove per punto 10 si tiene il 10%, quello che si vede è che c'è un'enorme variabilità nei rendimenti mensili. Un'enorme variabilità che si accompagna è un fatto interessante, che è la scala simmetrica, cioè che quando il mercato va male va molto peggio di quando va bene, che è un tipico segno dell'importanza degli effetti di panico. E la seconda cosa che notate c'è una riga continua rossa che è il rendimento medio, e il rendimento medio è molto prossimo a zero. Passiamo ai rendimenti decennali, nei rendimenti decennali vedete che la riga continua, che la media si alza decisamente e detenendo un portafoglio azionario per almeno un decennio, vedete che gli episodi in cui il rendimento risulta essere negativo diventano molto rari. Tenete presente che questi sono i rendimenti in termini reali, quindi avete un primo periodo in cui il rendimento negativo che sono i periodi di grande inflazione da shock petrolifero degli anni 70 e poi l'unico altro decennio che vi dà rendimenti negativi è quello che va tra il 2000 e il 2010 che si conclude con la crisi finanziaria. Notate che le fluttuazioni diventano molto meno pronunciate. notate anche che la simmetria ricompare ma al contrario, su un orizzonte decennale la scala è asimmetrica, ma asimmetrica nella direzione opposta al rendimento mensile, ossia la parte alta che quella positiva è molto più elevata della parte bassa. Grazie. Grazie a tutti.